Ciao a tutti, vediamo come possiamo verificare quanti player stanno giocando ai vari giochi di Steam. In questo caso vi basta scrivere Steam Charts su Google, aprite il primo sito che è steamcharts.com e da qua vedete che c'è, facciamo l'eject, c'è la lista dei giochi, quindi gli ultimi giochi che sono in trending oppure i top games di sempre. Abbiamo i vari record, in questo caso vogliamo aprire qualcosa di differente, vediamo un gioco che giocavo tanti anni fa, Battlerite, perfetto, è un gioco che ormai non è più seguito nemmeno dagli sviluppatori, perciò potete vedere che qua c'è il calo dei player, sono veramente pochi player, mi spiace un sacco, ma qua c'è la lista e potete verificare quanti stanno giocando al momento, quant'è il picco massimo nell'ultime 24 ore e qual è il picco di sempre. Questo è quanto, torniamo in home, apriamo un sito un po' più giocato, Apex Legends, ed ecco qua la lista dei giocatori di Apex Legends. Se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento. Ciao ciao!